L'Unquest si occupa di sostenibilità dal 2006, io sono responsabile dell'area sostenibilità e abbiamo la vocazione della comunicazione, quindi come società di consulenza ci occupiamo di comunicazione corporate in tanti ambiti e in sostenibilità abbiamo questo focus su comunicazione, reportistica, engagement dei stakeholder e quindi tutto quello che riguarda un po' l'engagement delle persone, il coinvolgimento delle persone. Negli ultimi anni è stato veramente un boom di interesse e di attività perché abbiamo la vocazione di tradurre quello che è il mestiere del sustainability che può essere spesso tecnico a qualcosa che tocca le persone, quindi deve diventare anche coinvolgimento e a sostegno di tutto quello che è un po' il percorso di trasformazione. Partecipare al sustainability makers è una cosa essenziale per noi perché sentiamo che tutte le persone che lavorano in questo settore devono trovare le forze insieme per coinvolgere sempre più i loro colleghi, il loro responsabile, il CDA e tutti i livelli dell'organizzazione per fare squadra e torno alla sostenibilità. Questa è veramente la missione dei prossimi anni, quindi la capacità di coinvolgere si traduce veramente in un lavoro di advocacy, quindi portare tutti a bordo, portare tutti a un'agenda di cambiamento è fondamentale, quindi farlo insieme condividendo le esperienze è veramente una cosa essenziale per noi.